La discussione collettiva, allargata e irrazionale sia un luogo di verità e di saggezza e che alla fine questa roba qua passa. Le politiche pubbliche in Greta hanno per definizione bisogno di tantissime persone, ci vuole certo un politico, un funzionario pubblico di alto rango che guidino il processo, però serviamo anche tutti noi. Junior civil servants, well-meaning consultants, community leaders, even interns, each of them has a little money and a little mandate towards the public good. The good news is, almost all of these people fight for the good. I have yet to meet a public servant who is not passionate about what he does. I have nine years of Sindaco. E' la priori che vede qualcuno dalla parte degli ordini sovracomunali che dicono di servire i giorni. Siamo in missione. E' una gara a codici. dobbiamo trovare dei codici, sparsi dei checkpoint. Gli enigmiche dobbiamo risolvere e dobbiamo liberare la nostra città. perché accontentarsi del 6 e mezzo? Puntiamo al 10 e l'ora. Puntiamo al 10 e l'ora.